Per la nostra rubrica TC Informa incontriamo il presidente dell'ATC Unico di Brescia, Alessandro Sala, durante il suo itinerario vagante delle zone omogenee. Qui siamo a Pontoglio, a contatto con i cacciatori della zona 11. Prosegue dunque l'itinerario di incontri. Sì, è necessario incontrare i cacciatori nelle zone omogenee. Qui siamo a Pontoglio, lasciatemi dire che siamo nella casa degli alpini, ma nella casa di Tommaso Bertoli Tarzan, il mitico Tarzan, famoso cacciatore, grande cacciatore Beccacini, grande amico, un uomo straordinario, un uomo che ha fatto tanto dal bene, un alpino, uno meraviglio di uomo. Sono orgoglioso di essere qui nella sede degli alpini di Pontoglio per celebrare proprio e comunque e sempre Tommaso Tarzan. Ripeto, ci stiamo muovendo, siamo quasi arrivati alla fine, ci manca la zona di Montichiari e quella di Lonato dopo quella di questa sera. Devo dire che sono soddisfatto, sono soddisfatto dell'accoglienza che ricevo, sono soddisfatto del dialogo che si intraprende con i presidenti e con i delegati di queste zone. La situazione è comunque difficile perché si viene da un commissariamento, non mi perdo d'animo, ma avrei tutte le condizioni per perdermi d'animo, devo dire, perché... L'impegno è faticoso. L'impegno è faticoso ma soprattutto si viene da un commissariamento e quindi torno a ripetere che dal tecnico faunistico ai fagiani riproduttori da liberare, soprattutto al discorso del pagamento dei bollettini. Io continuo a ripetere che ho avuto da quando sono qui 11 giorni, 11 giorni solo ed esclusivamente per mandare i bollettini in posta. La posta li doveva spedire e una volta spediti i bollettini arrivavano al cacciatore il quale doveva stare entro il 31 marzo. Mi sembra un'utopia. Ecco perché avevo pensato di prorogare fino alla fine di aprile, pur sapendo che la legge dice il 31 marzo, io credo che si debba utilizzare il buon senso perché torno a ripetere che veniamo da un commissariamento. Per il resto in ogni zona omogenea parliamo di quelle famose due settimane dopo l'apertura generale fino alla fine di settembre. Quindi tre giorni. Per capire un po' la questione dei tre giorni parliamo soprattutto delle zone di ripopolamento perché sono la cosa che mi interessa particolarmente perché dobbiamo catturare lepri e dobbiamo pensare ai fagiani. In questi anni sono stati liberati qualcosa come 31.500 lepri e 535.000 fagiani. Mi sembra che siano dei numeri assolutamente alti e nel frattempo devo dire che 87 zone rosse e 13 zone di ripopolamento e cattura l'anno scorso ci hanno permesso di catturare. Io ho trovato questo, 104 lepri, cioè la media di una persona. È impossibile, è una cosa che non va bene. Quindi dobbiamo lavorare per quello, dobbiamo lavorare per creare un gruppo di guardie che siano guardie volontarie ma che siano dell'ambito e lo faremo. E nel frattempo devo dire che dobbiamo pensare ai miglioramenti ambientali perché senza i miglioramenti ambientali e senza l'accordo con gli agricoltori credo che il futuro non sarà un futuro. Quella è la base su cui costruire? La base su cui costruire è quella del rapporto con gli agricoltori, produrre lepri, le nostre lepri che quindi potremmo liberare anche a gennaio o febbraio perché bisogna considerare che quelle che si acquistano dall'estero bisogna liberarle ancora a dicembre quando ancora si è fuori a caccia. Perché in quei paesi dopo il 15 dicembre non catturano più, però devo dire che se ci sono ancora i cani in giro questo non va bene. A proposito di cani devo dire che cani da caccia e non da caccia ce ne sono là per tutto e voi pensate adesso al periodo di riproduzione dei fagiani e delle lepri e questi animali vengono comunque disturbati. Ecco la necessità di avere anche una vigilanza nostra che possa intervenire in maniera diversa, non perché non lo faccia la polizia provinciale. Anzi il mio rapporto con Saleri e con l'istituzione provincia, oggi regione, oggi UTR è ottimo e credo che noi dobbiamo lavorare insieme, associazioni venatorie, associazioni agricole, istituzioni tutte, UTR di Brescia, polizia provinciale e regione Lombardia Milano. A proposito di regione Lombardia c'è stato un incontro con l'assessore Rolfi per questa famosa app sul telefono, ha incontrato i presidenti degli ATC. Io devo dire che Rolfi secondo il mio punto di vista, l'assessore Rolfi sta lavorando bene, io gliene rendo atto e anche molto paziente ma nello stesso tempo determinato. Io credo che anche gli ultimi provvedimenti che sono stati presi, non grandi cose ma necessari, vadano nella direzione giusta per quanto riguarda l'app, per quanto mi riguarda, punto di domanda. Anche perché ci sono tanti cacciatori anziani? Non solo per i cacciatori anziani, credo che come esperimento e come tutti gli esperimenti possa essere fatto a livello di volontariato però non so. Alessandro, ci avviciniamo invece alla data fatidica del 18 di aprile che è la data dell'assemblea dell'ambito dove presentare il bilancio consuntivo e preventivo. Noi abbiamo preso atto del consuntivo e del preventivo, il consuntivo praticamente l'ha predisposto in toto il commercialista. Sarà la tua prima assemblea? Perché il consuntivo non era la nostra e quindi abbiamo preso atto di quello che c'era. Sicuramente abbiamo tolto tutti i residui che erano lì da anni e anni e li abbiamo messi nel preventivo anche perché non si possono lasciare lì anni e anni. Nel bilancio di previsione dal quale abbiamo preso atto a livello di comitato di gestione, devo dire che abbiamo puntato molto su questo discorso, miglioramenti ambientali, zone ripopolamento e catture soprattutto quelle superiori ai 300 ettari, zone rosse superiori ai 300 ettari e vigilanza. Puntiamo molto lì perché il mio obiettivo non può essere quello di chiudere le buche sotto i piedi, devo avere un obiettivo davanti e l'obiettivo è quello di produrre selvaggina sia lepri sia fagiani e mandare a caccia la gente. Lo scopo dell'ambito è mandare le persone a caccia.